Torime, in cerrimo ha già pare Torime Liberata dal guano dei piccioli e ripuliti in ogni suo elemento dalla patina di polvere di sporco che fissiera depositata la vecchia chiesa dell'ospedale vecchio ha ripreso luce dopo i lavori commissionati da SST Cremona ad una ditta milanese specializzata L'unico grande spiacere per uno dei gioielli, forse il più mirabile dal punto di vista artistico e religioso all'interno del perimetro della città di Casal Maggiore è che la chiesa resterà chiusa come lo è ormai da anni, eccezion fatta per qualche iniziativa estemporanea Comunque sia SST ha mantenuto la promessa, forse in modo tardivo, di rimetterne in sesto almeno per quel che concerne i lavori ordinari Quello che vi abbiamo mostrato e vi mostriamo tuttora lungi dall'essere una sorta di tour guidato è un parallelo tra come era la chiesa e come invece adesso mostrando quanta differenza vi sia la parola dunque alle immagini la chiesa è un parallelo trixi Algum ethitta dei fredi Grazie a tutti.